A Bolzano il Chiostro dei Dominicani ospita una mostra legata all'anno della fede indetto dal Papa. Si intitola Videro e Credettero, la bellezza e la gioia di essere cristiani ed è organizzata da diverse associazioni. Vuole mettere in luce il realismo e la ragionevolezza della fede, mostrando come essa risponda alle grandi domande di senso, di felicità e di pienezza. I pannelli fotografici contengono immagini della storia dell'arte e di film come il Vangelo secondo Matteo di Pasolini, con testi e citazioni varie. Tra gli eventi di contorno, giovedì sera, in Duomo a Bolzano, un concerto della corale Non Nobis Domine, con meditazione del Vescovo Muser. Apertura fino all'11 ottobre.